Cormac McCarthy è la strada. Cormac McCarthy è un grande vecchio della narrativa americana. Vivi appartato, si dice, nei margini del deserto dell'Arizona, non rilascia interviste. Cormac McCarthy ha scritto dei libri forti, libri da cui sono stati tratti anche film di successo, film molto nosi come ad esempio Non è un paese per vecchi. Anche dalla strada, che è il mio consiglio di oggi, anche dalla strada si fece un film nel 2009, un film con Viggo Mortensen potente, ma mai come il libro, che per me è forse il libro più bello, più fulminante di questo autore. Un libro che esce nel 2006, con cui l'autore vinse un Pulitzer nel 2007. Io ho tra le mani l'edizione in Audi che ha pubblicato l'opera a partire dal 2007. Che cos'è la strada? La strada per me è stato un invito a guardare, a misurare, a percorrere direi l'orlo del precipizio in cui camminano le nostre vite, in cui camminano i nostri destini. Siamo in un mondo arido, muto, in un mondo senza Dio. Un uomo cammina lungo la strada con il figlio, un bambino che non ha nome. C'è stato un evento, un evento cruciale all'origine del racconto, all'origine della storia, una crisi climatica, una tempesta di fuoco, forse una rovina nucleare. Comunque una misteriosa e innominata apocalisse che ha incendiato la terra e l'ha svuotata di vita. E' dappertutto desolazione e caos. Eppure ci sono ancora città, case, negozi, il mondo non è finito, qualcuno è ancora vivo e i sopravvissuti di questo mondo sono uomini aggressivi, implacabili, cattivi, disperati, sono uomini disumani. Ma di colpo in questo mondo gelido, grigio, freddo, tu trovi un uomo e un bambino che camminano, che cercano il cibo, che cercano e camminano verso un altrove con un vecchio carrello della spesa che è tutto ciò che hanno e ti appassioni al destino di questa coppia. Questo si è detto che è un racconto apocalittico, distopico, forse un racconto tanto duro da cui bisognerebbe stare alla larga. Invece io consiglio caldamente la lettura. E' un libro che può essere letto e deve essere letto perché forse è una parabola, è una profezia, è un annuncio, è un avvortimento, è una riflessione, è uno scandaglio veramente perfetto nell'uomo e anche nel suo orrore. Ed è un libro molto bello, bello nella sua lingua secca, nella sua lingua essenziale, nella sua lingua scarnificata e pregna anche di intensità poetica. Il romanzo, ecco, possiede del resto forse la punta più alta della specifica grana linguistica di Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, la strada.